salve bentornati al video riassuntivo delle uscite del mese di lego parliamo adesso di giugno 2024 qui su vitos lego south andiamo a vedere tutto quello che viene proposto in un mese quello di giugno 2024 veramente senza senso per quantità di uscite e varietà anche di roba presentata quindi non badiamo alle ciance partiamo subito perché i set da vedere sono talmente tanti la lista che sto utilizzando per vedere questi set è stata preparata da affari da nerf.it che è molto precisa molto puntuale quindi li ringraziamo anche il primo set che andiamo a vedere oggi è la scacchiera tradizionale 40 70 19 743 pezzi 75 euro i pezzi secondo me sono proprio belli secondo me sulla scacchiera sul tavolo sulla pedana insomma come si chiama sulla scacchiera banalmente si poteva fare qualcosina di meglio sul bordo che è proprio bruttino magari avrei fatto l'avrei fatta pagare qualcosina in più ma sarei arrivata ad avere una bella scacchiera cosa che al momento ancora non abbiamo c'è il bordo per me la rende proprio inguardabile mentre i pezzi sono già super accettabili secondo me arriverà magari in futuro una scacchiera migliore set bellissimo quello di notre dame de paris architecture non completamente nelle mie corde io sposo i monumenti giganti meno questi architecture però effettivamente è molto bella cioè se uno colleziona questa roba che è diventata un po una via a metà tra i vecchi architettori anzi molto più grande dei vecchi architettori ma sicuramente meno dei monumenti tra l'altro lego ha dovuto anche rilasciare un comunicato sul perché notre dame è andata contro la sua regola delle chiese hanno praticamente detto quello che immaginavamo tutti notre dame è qualcosa che va oltre di più il concetto di religione quindi ne hanno fatto in questo caso un set set che quando lo guardi dagli interni è veramente una meraviglia sono 230 euro 4383 pezzi ovviamente è già preordinabile sul sito della lego davvero davvero un bellissimo set ma andiamo avanti vabbè a maggio a metà è uscita la via latte ma l'abbiamo parlato la settimana scorsa ci sono un po di cose di batman una carina che prenderò anch'io che questa batmobile con harley queen non è questo sbagliato a cliccare chiedo scusa è no è questa c'è un dramma in corso mi chiedo scusa eccola qua è costa un po di meno sono pazzo io eccola qua la batman con batmobile verso harley queen e mr freeze quindi con tre minifigure 7 da 60 euro 435 pezzi si unisce bene con le altre due batmobile che ho in collezione quindi questa la prenderò non l'ho ancora preordinata belle anche le minifigure il colore dell'auto ha fatto arrabbiare diverse persone perché hanno scelto questo blu forse un po troppo chiaro però amen l'altro set di batman che andiamo a vedere è questo personaggio costruibile di batman con batbot 75 euro 713 pezzi il batbot non è neanche malissimo ricordo che a un certo punto lego ne aveva messo uno in una fiera americana e lavoro l'avevo da tantissimo questa non è secondo me da spenderci 75 euro però ci sta nel gioco con la minifigura per i bambini non è per niente male poi abbiamo bricchettes bricchettes molto belli allora andiamo all'aprire tutti erano talmente tanti set che questa volta non ho potuto preparare i link in anticipo abbiamo car russell e kevin da app non è il più bel set questo 20 euro per tre comunque bricchettes qui abbiamo mirabel a 10 euro gioia tristezza e ansia da inside out 2 e lagos e gimmoli gimmoli da il signore degli anelli le bricchettes so che hanno un foltito numero di appassionati altrimenti non sarebbero facendo 800 miliardi quindi secondo me sempre piacevole del set city abbiamo diverse cose interessanti queste le ho preparate abbiamo porto e navi merci da 110 euro abbiamo elicottero dell'esploratore della giungla 100 euro per 881 pezzi abbiamo gruda cantiere mobile gialla che è citato tantissimo 110 euro per 1116 pezzi e abbiamo camion per le consegne giallo 100 euro per 1061 pezzi ce ne sono altri set di siti ma onestamente non li potremmo andare a vedere tutti oggi ci andiamo a vedere invece i due creator tre in uno c'è la casa moderna e il t-rex eccola qua questa è la casa moderna anche questo come vedete prenotabile una roba che si sta facendo molto di più in casa lego evidentemente per snellire i problemi degli ordini qui si possono costruire praticamente tre tipologie di case diverse ecco qua si vede benissimo qua con una quantità di 7 939 non malissimo questo invece è il t-rex 60 euro e possiamo avere anche delle altri animali o dinosauri chiamavoli dinosauri eccolo qua belli anche a me secondo me la serie dei creator come rapporto qualità prezzo una delle quelle super interessanti fanno delle cose davvero 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 belline per disney abbiamo disney il giovane simba tanto simba che è quello grande da 130 euro questo secondo me gli è riuscito particolarmente bene ed è il primo set di questo tipo secondo me che ha una bella faccia ancora non perfetta ma ci stiamo avvicinando veramente ad essere una roba che può sembrare guardatelo qua una roba esponibile ecco tra l'altro questo sembra anche un montaggio molto divertente testa snodabile si può fare meglio sì ma lo vedremo vedremo quanto e come in futuro l'altro set della disney abbiamo un simba piccolino porta gioie di biancaneve min castello della bella addormentata ce lo vediamo sono quei set molto simpatici eccolo qua con anche la minifigure non mi pare ci fosse in passato set simpatico se state facendo gli altri castelli disney secondo me davvero molto carino questo è la magica casa di madrigal 160 euro però questo non prenotabile vedete lo fanno per solo per alcuni set 1500 60 pezzi con tante mini doll all'interno ma non è ancora finita qua per disney abbiamo malefica drago questo vediamo ma non è niente di che e chiudiamo con il palazzo di ghiaccio di elsa questa è malefica drago è un set che ci aspettavamo tutti molto diverso a meno che non debba ancora uscire con le mini doll castellino bruttino drago insomma niente di che 70 euro per 583 pezzi questo invece è la versione grossa del 100 euro del palazzo di ghiaccio di elsa sono 600 solo 630 pezzi è vero che ci sono delle mini doll però il rapporto pezzi prezzo è veramente molto sbilanciato in questo caso cosa che succede molto sulle robe su licenza duplo non lo andiamo a guardare anzi sì andiamo a guardare anche duplo perché credo sia l'esordio di peppa pig nella serie duplo che è una roba che doveva essere successa 100 anni fa per quanto è tutto giusto cioè peppa pig nei duplo ci sta benissimo questo però è un set da 70 euro per 70 pezzi mamma mia è vero che i duplo sono pezzi giganti non hanno lo stesso rapporto però vabbè Harry Potter tanta roba bella partiamo dal castello di Hogwarts da 200 euro sala grande eccola qua c'è tutta la roba ci sono tante minifigure che adesso andiamo a vedere tantissime minifigure la minifigure per 200 euro sono tutti bambini c'è un troll ci sono diverse cose un set che piace molto a me che non sto prendendo al momento ma potrei considerare in futuro è la mandragola 76433 70 euro per 579 pezzi col vasetto con le foglioline la puoi tirare fuori secondo me questo è più esponibile per un adulto ecco per gli set che piace a me guardate al momento lo passo però non è per niente brutto guarda quanto è carino messo qua nelle piante d'altro le foto di lego sono proprio belle queste pubblicitari che fanno sempre di Harry Potter abbiamo Fiero Becco a 60 euro Oliver e Madame McClane abiti per tutte le occasioni Torneo dei Tremachi l'arrivo eccolo qua questo è un bellissimo set 140 euro con la barca la carrozza anche qui tante minifigure questo con le gambe lunghissime molto belle queste minifigure porca miseria serve un'altra serie di Harry Potter di minifigure dopo le due che hanno già fatto comunque un bellissimo set questo a 140 euro per 1229 pezzi per Harry Potter abbiamo finito ci sono altre cose ovviamente non le vediamo tutte poi c'è Ararog nella florezza proibita da 20 euro di Lego a Dias abbiamo solo il gatto Tuxedo un attimo che si apre eccolo qua a qualcuno è piaciuto molto a qualcuno è piaciuto meno io non lo trovo per niente bruttissimo non lo prenderò al momento si possono fare vedete anche due versioni con gli occhi secondo me non è bruttissimo e ci può stare anche esposto ha proprio una forma da statua di gatto che è da gatto vero onestamente rispetto a Simba sembra proprio più una roba di porcellana a forma di gatto però non è terribile per niente 100 euro per 1710 pezzi quindi un ottimo rapporto anche questo prenotabile poi abbiamo gli Icons questo è un set che prenderò la radio vintage poi abbiamo vabbè il sistema di lancio spaziale NASA Artemis 1 non lo andiamo a vedere però perché è uscito il 15 maggio e poi abbiamo il set clamoroso di questo mese ma vediamo prima la radio vintage a 100 euro questa non prenotabile in realtà porca miseria quindi non posso fare questo preorder eccola qua avrei scelto altre radio nettamente questo secondo me è un fatto hanno scelto un modello che mi spiego pochissimo però il concetto non è nemmeno male dietro adesso ve lo faccio vedere c'è uno slot per farla funzionare come radio in cui metti praticamente lo smartphone è bello è un bel set c'è un bel verde non è terribile anzi vi piace un sacco però minchia potrei fare una radio vintage in 200.000 modi diversi e hai fatto questa che boh ma avrà non so se in America è un modello magari più riconoscibile il signore degli anelli eccolo qua il set del mese forse anche dell'anno Baradur 460 euro in arrivo il 4 giugno è una bella pallocca gigante guardatelo con dietro aperto un po' come il castello Disney ci sta e questa roba non mi disturba a me onestamente a qualcuno so che ha dato fastidio però il castello Disney puoi metterci una parte dentro non mi dispiace che sia tagliato a metà ecco guardate che bello qua l'occhio l'occhio è veramente bello minifigure di gran qualità mi piacciono persino i cattivi qui la vediamo in tutta la sua imponenza è un bel set un set disponibile è anche giocoso dietro veramente un set splendido che io non prenderò perché non ho sto grandissimo amore per il signore degli anelli ma l'idea la lascio là facessi miliardi lo prenderei ecco non lo posso escludere del tutto di Jurassic World abbiamo missione dinosauro cambio di trasporto dell'allosauro sono diventati molto dettagliati in questo set poi abbiamo baby bumpy archilosauro e ci vediamo invece missione dinosauro scoperta dello stegosauro eccolo qua il primo questa è missione dinosauro cambio di trasporto dell'allosauro 90 euro sempre con questi dinosauri così che sono meglio di quelli che fanno con i pezzi lego sinceramente e qui abbiamo lo stegosauro devo dire che adesso se hai provato a fare tutta la collezione te ne ritrovi tantissimi di dinosauri quindi fai proprio una bella collezione anche di quello se ti piaccia dinosauri lego fatti in plastica della Marvel c'è un portachiavi rocket raccoon questo lo guardo con voi perché non lo conosco vabbè un semplice portachiavi a 6 euro in arrivo il primo giugno sono delle minifigure bucate quindi è un po' un peccato secondo me inventarsi questo modo di Minecraft abbiamo 3 set non ci guardiamo la miniera delle bandlands e il castello del lupo ci guardiamo l'ender drago e la nave del land 21264 il più grande 80 euro per 657 pezzi se avete andato in giro sull'internet avete visto che per festeggiare 25 anni di Minecraft lego ha regalato a degli influencer un set enorme bellissimo un cubone con tutti i pezzi che è una meraviglia e che nei secoli costerà 182 mila miliardi perché ne avranno fatti pochissimi lego a noi non ce li ha mandati però Ninjago andiamo a vedere i più grossi di Ninjago ovvero torneo città del tempio drago sorgente del movimento e minchia ci sono tanti grandi mech drago titanio dei call 71 821 ne ho chiuso uno per sbaglio porca miseria ah no ho fatto un disastro che però possiamo riprendere al volo sto cercando di intrattenervi ma ho cancellato il file da cui sto prendendo i link quindi ho fatto una tragedia ma adesso ce la facciamo e ci andiamo a rivedere questi set eccolo qua allora partiamo da mech drago titanio di call so che Ninjago è super apprezzata come serie questo è veramente un bel mech questo ci fai un Gundam perfetto ma pure gigante ma è bellissimo questo diventando belli Ninjago anche per me che non mi ha mai apprezzati particolarmente guardate che bello questo drago sorgente del movimento 150 euro ammetto che nel casino delle mille uscite me li sono anche un po' persi questi set per guardarli nel dettaglio questo drago è stupendo è proprio bello il bambino intanto che urlo quest'altro invece è torneo città del tempio è un set più grande tra l'altro non lo fanno anche dei modulari veramente serie tra l'altro impegnativissima da seguire eccolo qua davvero davvero tre bellissimi set ce n'era un altro grande che devo un attimo recuperare un secondo eccoci qua mac drago di italiano l'abbiamo visto ah cingolato del team ninja 71 820 eccolo qua ma questo non mi fa particolarmente impazzire 90 euro per 500 76 pezzi comunque con ninja abbiamo finito abbiamo poi le tre spin champions eccole qua queste sono la mercedes mg g63 mercedes mg sl63 davvero molto belle di queste mi sono innamorato abbastanza subito non mi piace quando inseriscono in questa serie onestamente le jeep però questa è fatta divinamente qui possiamo vedere un po' di dettagli come al solito le speed champions rapporto qualità prezzo secondo me la roba più bella e divertente da montare io le adoro questa è la supercar lamborghini lambo v12 vision gt anche questa secondo me è un bellissimo progetto sempre nell'ottica di proviamo a fare delle macchinine che ci somigliano all'originale il lego non di macchine perfette il lego perché è veramente una missione semi impossibile comunque molto bella tanti adesivi si vedono e so che a molti non piacciono queste invece sono la safety caraston martin amr23 terza formula 1 grossa autostud delle speed champions eccola qua l'altra mi sembrava quella uscita di recente mi sembrava nettamente meglio di questo ma magari una sensazione dovuta anche un po' dal colore chiudiamo queste uscite di giugno lunghissime con il set di star wars l'imperia star destroyer eccolo qua 170 euro 1555 pezzi anche qua abbiamo una quantità importante di minifigure è un po' più grande di quelli piccoli con la media dimensione secondo me per un prezzo comunque non malissimo eccolo qua sembra più piccolo a guardarlo così però poi quando lo vende in mano si vede che è più dettagliato ci sono degli interni non c'è una foto in cui si vedono benissimo le minifigure ma eccole qua c'è anche questa limitata ai 25 anni quindi un set molto importante abbiamo finito con queste uscite di giugno signori noi ci vediamo tra pochissimo con la recensione del gufo che ho portato di là tra la pausa e l'altra e poi nella settimana come al solito con gli aggiornamenti ciao a tutti grazie alla prossima ciao 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 ciao